La pagina relativa all'emergenza Covid con la nostra Anna Di Giorgio che è in collegamento dalla sede dell'Asile di Pescara dove c'è il direttore regionale delle grandi emergenze Alberto Albani. Abbiamo detto nei nostri titoli che ci sono regioni che già dal prossimo fine settimana da venerdì potrebbero tornare in zona gialla, in particolare il Friuli. Altre che sono osservate speciali per la settimana successiva. L'Abruzzo non è in questa condizione ma ciò non toglie che bisogna tenere la guardia molto molto alta rispetto al coronavirus. A te Anna con il tuo ospite, buon pomeriggio. Sì Carmine buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Dicevi bene tu, io sono in compagnia del professore Alberto Albani che è il responsabile regionale della Task Force per l'emergenza Covid in Abruzzo appunto. E proprio con il professore Albani volevamo fare un po' il punto della situazione su questo quadro sanitario che si sta delineando in Abruzzo anche alla luce dei contagi che stanno aumentando nelle ultime settimane. Sappiamo bene che i parametri da prendere in considerazione sono tre. L'incidenza settimanale dei casi che l'Abruzzo purtroppo è abbondantemente superato. Ma poi c'è anche l'occupazione soprattutto dei posti letto in area medica. E siamo in questo caso al di sotto del 15% che è la soglia d'allarme consentita, diciamo valutata dal CTS. E per quanto riguarda la terapia intensiva i posti letto occupati anche in questo caso restano al di sotto del 10% che è la soglia diciamo di allerta. Quindi con il professore Albani però volevamo commentare proprio questo dato. Anche nei recenti bollettini abbiamo notato questo lieve, seppur lieve ma comunque sempre di un aumento si tratta delle ospedalizzazioni. Dunque qual è la situazione e cosa rischia l'Abruzzo se il quadro dovesse continuare ad aumentare anche sul fronte delle ospedalizzazioni? Sì, attualmente la situazione è sufficientemente tranquilla. però siamo in vigile attesa perché come diceva giustamente lei i dati si attestano ormai sempre quotidianamente a oltre 100 positivi al giorno, stabilmente oltre 100 positivi al giorno e questo è un po' il trend che esiste su tutto il territorio nazionale. È partito come sempre prima dal nord e piano piano sta scendendo al centro e poi arriverà al sud. Così è una normale evoluzione del trend epidemiologico. Questo aumento di positività settimanale si accompagna statisticamente anche a un aumento dei ricoveri e questo aumento dei ricoveri si è visto poi che circa un 10% dei pazienti che vengono ricoverati poi purtroppo finisce in terapia intensiva. Questo dato oggi è un pochino più basso perché per fortuna molti persone sono vaccinate. Noi abbiamo raggiunto un tasso di vaccinazione molto alto, siamo al di sopra della media nazionale quindi questo ci riempie di orgoglio, vogliamo ringraziare la popolazione che così con senso civico si è in larga misura vaccinata. Questo fa sì che le persone, quei pochi che arrivano vaccinati, che hanno però contratto la malattia hanno una malattia molto poco significativa dal punto di vista clinico, sembra una forma influenzale o in qualche quadro persone fragili un pochino più serie. Però normalmente poi purtroppo in rianimazione, almeno in questa fase, arrivano tutti quelli non vaccinati proprio perché le difese immunitarie sono scarse e si ripete nel quadro della prima e della seconda ondata. Quindi pazienti non vaccinati che hanno quadri clinici importanti e quindi finiscono in rianimazione. Nonostante questo però professore, i non vaccinati continuano a radicalizzarsi su quelle che sono le posizioni appunto Novax, come si può convincere, come ci si può appellare a queste persone? Perché poi la vaccinazione, l'abbiamo detto anche tante volte, è anche un gesto civico, di senso civico, di responsabilità. Mi vaccino per me stessa ma anche per proteggere gli altri. Assolutamente, c'è una forma di egoismo che va assolutamente corretta. Allora, quella fetta di popolazione che non si vaccina per paura, non possiamo che tranquillizzarla perché ormai nel mondo sono stati fatti milioni di vaccinazioni e gli eventi avversi sono rarissimi, sono quasi in esistenza, sono molto molto pochi. Chi è invece radicalizzato per una convinzione ideologica su quelli abbiamo poca possibilità di far presa e su quelli purtroppo non possiamo agire. Ma sono però persone che poi di fondo, come dice lei, egoisticamente non si vaccinano e quindi sono portatori di virus. Anche perché continuando a circolare questo virus, quello che rischiamo sono ulteriori chiusure e quindi anche non soltanto problemi per il quadro sanitario, proprio per la sanità regionale, ma anche per l'economia regionale perché i dati dell'anno scorso, l'abbiamo visto, eravamo in chiusure, vari lockdown che non hanno fatto bene neanche all'economia. Assolutamente, è un dato che ci preoccupa perché questa diffusione del virus, che oggi, ripeto ancora, è lontana da quelle situazioni drammatiche della prima e soprattutto della seconda ondata, però chiaramente l'aumento dei casi potrebbe portare in un futuro, speriamo di no, e non ci sono nessun dato che lo indica, però un rischio di chiusura significa un danno economico per tutta la regione, importante perché ritorneremo al lockdown. Carmine, se tu non hai domande da studio, io ho tante altre domande da fare al professore, ce le ho e sicuramente le proporrò nel corso dello speciale che andrà in onda questa sera alle 20.05, quindi se vuoi io chiudo qui questo primo intervento e poi questa sera. Una sola domanda, Anna, se riesci, io a noi abbiamo messo questo titolo che appare sotto l'inquadratura, adesso tu non puoi vedere, c'è scritto Abruzzo settimane decisive, quali sono le settimane decisive, quelle in cui si deciderà come trascorreremo il Natale, secondo il professor Albani? Allora, diceva il direttore, quali saranno le settimane decisive, cioè quanto tempo effettivamente ci vorrà per capire quale sarà il tipo di Natale che trascorreremo, cioè chiusure o non chiusure in vista anche del Natale, quanto tempo ci vorrà a delineare in maniera più certa il quadro che ci si prospetta? Dobbiamo aspettare almeno una ventina di giorni per avere un quadro più preciso, però se noi adottiamo quelle che sono le misure che avevamo adottato nella prima o seconda ondata, cioè l'uso delle mascherine al distanziamento sociale, potremmo passare un Natale tranquillo, a prescindere dalla vaccinazione che è fondamentale, perché l'inverno, oltre a far sì che le malattie tipo influenzale si diffondano maggiormente, è legato al fatto che col freddo le persone stanno più al chiuso, stando più al chiuso c'è più facilità di diffusione, come si è visto da recentissimi studi, che stando tre ore in una stanza il virus ha una capacità di infettante elevata, quindi l'uso delle mascherine e del distanziamento rimane ed è l'unica arma efficace contro il virus. Carmine, ti restituisco la linea a questo punto. Grazie, grazie Anna, grazie soprattutto al professore Albanni per la sua cortesia e disponibilità. Grazie. 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 Grazie.